Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del TG6 la settimana. Lunedì l'arrivo dei profughi ucraini ha imposto una riunione urgente del prefetto di Teramo con enti e forze dell'ordine per coordinare le iniziative di accoglienza. Attivati centri di raccolta su tutto il territorio provinciale e si valuta la possibilità di riaprire le casse cantoniere disabitate e ancora agibili. Ascoltiamo. L'intera provincia di Teramo si sta preparando ad accogliere le migliaia di profughi ucraini in fuga dalla guerra. Stanno arrivando alla spicciolata con autobus ma anche con mezzi privati. Teramo capoluogo prevede che almeno mille di loro possano cercare rifugio in città. È urgente dunque organizzarsi al più presto. Il prefetto Massimo Zanni ha immediatamente convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Diocesi, l'ASL e i comuni del territorio provinciale per coordinare le iniziative destinate a fornire ospitalità a tanti nuclei familiari senza nulla da mangiare o da indossare. Intanto è partita così una gara di solidarietà tra le numerose associazioni di volontariato per la raccolta di beni di prima necessità. A Teramo saranno utilizzati i grandi capannoni della Villa Roi e Boc per mettere insieme tutto il necessario a questa gente privata di tutto. Si cercano poi case e alloggi per poter dare un tetto soprattutto a donne e bambini. A Giulianova il Comune e la Protezione Civile stanno effettuando la raccolta al centro polifunzionale Pioppi. Serve cibo a lunga conservazione, vestiti caldi per i più piccoli, asciugamani e prodotti per l'igiene. La Croce Rossa di Teramo, in gemellaggio con quella della Polonia, ha raccolto principalmente medicine da inviare in terra ucraina. Il primo convoglio è già partito da Vezzano. Tra le proposte degli enti teramani messe sul tavolo del prefetto Zanni per attivare un'immediata accoglienza ai profughi in arrivo, c'è anche quella di riutilizzare le case cantoniere, disabitate da tempo ma ancora perfettamente agibili. Un grande aiuto sarà chiesto alle parrocchie e alla Caritas di Teramo che gestisce diversi immobili in provincia. Ma sono state le piccole comunità di ucraini presenti sul territorio ad ospitare per prime i profughi e saranno loro a fungere da collante tra gli scampati e le istituzioni locali. A Pescara gli armatori della marineria hanno protestato contro l'aumento del gasolio riconsegnando alla Capitaneria di Porto libretto di bordo e documenti delle imbarcazioni. Vediamo. Questa mattina le nuove gli armatori e pescatori pescaresi hanno riconsegnato, come annunciato ieri, alla Capitaneria di Porto per protesta i libretti e documenti di bordo dopo aver iniziato lo stato di agitazione. Non si ferma così lo sciopero in attesa di capire se e come interverrà il governo. Questa mattina attraverso una nota anche il presidente della regione Marco Marsilio ha espresso la sua solidarietà all'intera categoria. No, non si può andare avanti perché con il gasolio a 1,10 euro, 1,20 euro andremmo in mare e con ricavato pagheremmo solo il gasolio e tutto il resto come facciamo? Per i dipendenti, per le altre spese. Cioè è antieconomico, non è possibile lavorare così. Le prospettive quali sono? Se lo Stato riesce a trovare qualche modo per aiutarci, tipo abbassare le tasse che paghiamo eccetera, forse riusciamo ad avere ancora un margine per poter provare a sopravvivere, si tratta di sopravvivenza. Se questo non dovesse accadere vuol dire non poter lavorare, non poter lavorare più. Allora, questi documenti sono indispensabili per uscire in mare. Quando consegniamo i documenti diciamo che noi non possiamo assolutamente mollare gli ormeggi perché la guardia costiera tiene tutto in mano, libretto dei carburanti, ruolino di equipaggio e licenza di navigazione. Sì, in segno di protesta abbiamo preferito fare così onde evitare di bloccare le strade, roba varia. Non si sa niente qua, vediamo che succede. Ma il problema del porto esiste ancora. C'è sempre l'insabbiamento del porto, anche se adesso è stato fatto un canale d'emergenza. Ma una cosa d'emergenza, come fare mareggiate, tornerà a chiudersi insomma. Ilaria Cucchi, insieme all'avvocato Fabio Anselmo, ha incontrato gli studenti del liceo d'Ascanio di Montesilvano dove ha presentato il libro Stefano, una lezione di giustizia, la storia di suo fratello ucciso dai carabinieri. Se ci pensate Stefano è morto anche di giustizia, oltre che di pregiudizio, oltre che di indifferenza, ma ha iniziato a morire in un'aula di tribunale. Stefano Cucchi nel 2009 finì perfettamente sano nelle mani dello Stato. Fu restituito ai familiari, sei giorni dopo, pestato a morte. Da allora la sorella Ilaria si è battuta per far emergere la verità, ovvero che Stefano è stato ucciso dai carabinieri. Contro tutto e tutti, la sua battaglia ha portato alla condanna di due militari, in corte d'assise, a 13 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. Il processo per il depistaggio delle indagini è ancora in corso, sono imputati otto carabinieri. Una questione di mele marce o è l'albero che ha qualche problema? Ma diciamo che, premesso il fatto che non sono certo io il partito antipolizia, mi piacerebbe credere nel concetto delle mele marce, l'ho ribadito più volte, però ne ho viste e ne sto vedendo davvero tante, allora credo che ci troviamo di fronte a un vero e proprio problema culturale. Ilaria, accompagnata dall'avvocato Fabio Anselmo, ha riaperto la dolorosa scatola dei ricordi davanti agli studenti del liceo d'Ascanio di Montesilvano, in occasione dell'appuntamento col premio Borsellino. Ilaria Cucchi ha presentato il libro Stefano, una lezione di giustizia, l'insegnamento e che sui diritti non si scende a compromessi. La speranza è in quest'aula, piena di ragazzi, in tutte le altre aule di questa scuola, dove da più di un'ora e mezza si sta svolgendo questo incontro in religioso silenzio. Loro sono la speranza per il nostro futuro e per questo bisogna continuare a parlare, a raccontare queste storie, a raccontare dei diritti e di cosa possiamo, ciascuno di noi nel proprio piccolo, fare per battersi affinché i diritti di tutti vengano rispettati. I sindaci della regione Abruzzo sono pronti ad accogliere i profughi di guerra. Si prevede infatti l'arrivo di circa 10.000 ucraini. Gian Guido D'Alberto, in qualità di presidente Anci d'Abruzzo, annuncia piena disponibilità nel mettere a disposizione strutture recettive e hub vaccinali per controlli sanitari. In Abruzzo risiedono attualmente 4.000 ucraini. Secondo una prima stima fatta dalla regione e dai sindaci del territorio, è plausibile prevedere l'arrivo di circa 10.000 profughi di guerra. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, in qualità di presidente dell'Anci, annuncia la piena disponibilità dei comuni all'accoglienza degli ucraini, che si basa sulla reperibilità di strutture recettive e sulla pianificazione sanitaria, compresa la vaccinazione anti-Covid. Gli attuali hub vaccinali svolgeranno, in questo caso, una funzione essenziale. Cosa è emerso dalla riunione con Marsilio per quanto riguarda l'emergenza profughi? Ma intanto si è acquisita la consapevolezza che è necessario un coordinamento, un coordinamento unitario che deve partire dalla regione, con la protezione civile, il dipartimento sanità guidato dal presidente della regione come commissario delegato e poi un'organizzazione verticale che passa dalle prefetture. È necessario avere una linea univoca, uniforme, con indicazioni chiare, una rete di comunicazione interna tra le istituzioni e di informazione ai cittadini. Fondamentali in questo momento, altrimenti rischiamo di creare un disorientamento che non ci consentirà di affrontare l'emergenza. E per quanto riguarda l'accoglienza? Sì, al momento abbiamo il sistema dei CAS gestito dalla prefettura, di centiprima accoglienza, e i SAI che è il sistema invece gestito dai comuni. Con i numeri attuali siamo in grado ancora di fronteggiare, diciamo così, i cittadini, le persone che arrivano dalle popolazioni della guerra. Non basteranno ovviamente, quindi con la protezione civile si è condiviso la necessità di pubblicare un avviso per individuare strutture recettive e altri spazi da mettere a disposizione di coloro che arrivano. C'è il tema sanitario che è fondamentale, quindi è necessario organizzare e gestire il flusso delle persone che arrivano e gli hub vaccinali, come proprio questo al Parco della Scienza, saranno i punti di riferimento anche e soprattutto per poter verificare e monitorare lo stato sanitario di chi arriva. Quanti profughi si prevede arrivino? Guardi, al momento i numeri sono molto variabili, però se consideriamo che in Abruzzo abbiamo 4.000 residenti di nazionalità ucraina, nel territorio abruzzese sono previste più di 10.000 persone. Questa è l'ipotesi e la previsione. E' chiaro che ragioniamo veramente ancora in modo molto generico e quindi bisogna attendere le prossime ore, anche per capire quali sono i termini di durata del conflitto e anche quali sarà poi la capacità di tutto il Paese, perché non è un problema ovviamente solo regionale, ma la capacità di gestire e organizzare la distribuzione sul territorio. Il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, per fronteggiare l'arrivo dei profughi ucraini ha riunito l'unità di crisi. Fissate le linee guida del sistema dell'accoglienza. Vediamo. Intercettare i flussi di persone in fuga dall'Ucraina per gestirne al meglio e in sicurezza. L'integrazione nel territorio. La Regione Abruzzo si prepara all'accoglienza dei profughi ieri il Presidente della Regione Marsilio e il responsabile regionale della protezione civile, Casinghini, nominato per altro commissario delegato a tale emergenza, hanno radunato all'Aquila tutti gli attori istituzionali per fissare le linee guida del sistema di accoglienza. Tra i punti cardine l'individuazione di otto centri filtro dove indirizzare subito le persone che arrivano dall'Ucraina. Sono gli hub vaccinali già presenti e attivi, Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Chieti, Lanciano, Pescara, Teramo, con possibilità di aprire anche a Roseto. Qui si effettuerà lo screening Covid con tampone e sarà proposta la somministrazione di vaccino a una popolazione che ha un basso tasso di immunizzazione. Quindi la sistemazione è di concerto con le prefetture. Le prefetture stanno ovviamente mettendo a disposizione tutto il sistema dell'accoglienza dei profughi, dei richiedenti asilo, sia quelli gestiti direttamente dalle prefetture che quelli gestiti dai comuni. Sappiamo già che questo non sarà sufficiente perché l'afflusso è molto importante. Se la guerra andrà avanti si stimano arrivi in tutta Italia di centinaia di migliaia di persone. Significa dover ospitare migliaia e migliaia, nelle ipotesi peggiori, anche più di 10.000 persone in tutto l'Abruzzo. Ma dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza e quindi da questo punto di vista stiamo cercando di organizzare la macchina nella maniera migliore possibile per poter reggere anche questo urto. Ucraini che arrivano in Abruzzo con mezzi pubblici, rotaia o gomma o anche con viaggi organizzati. Molti si ricongiungono a parenti o amici che da tempo vivono qui. È comunque fondamentale la segnalazione dell'arrivo alle autorità. Con la rete delle questure, con la polfer per esempio per le stazioni, ma con le prefetture in senso generale, stiamo organizzando un modello che ci permetta appunto di intercettare questi flussi e guidarli anche in un processo di accoglienza. Anche perché se noi non abbiamo cognizione delle persone che arrivano, spesso sono persone che vengono ospitate da parenti o amici ucraini che già sono integrati nella nostra comunità. In quel caso ovviamente non abbiamo la possibilità di indicargli qual è la strada per accedere a questa integrazione che invece è prevista. Il caro Gasolio sta mettendo in ginocchio il settore dell'autotrasporto. Le associazioni di categoria parlano di rischio collasso per il settore. Il caro Gasolio rischia di mettere davvero in ginocchio il settore dell'autotrasporto in Abruzzo. Facchinetti, voi avete incontrato anche il sottosegretario della Giunta regionale d'Annuntis. Cosa è uscito fuori da questo incontro e quali sono le prospettive per il settore oggi? Il caro Gasolio sta determinando una sofferenza delle imprese che svolgono il trasporto di merci e anche di persone che non si vedevano da tantissimi anni. C'è stato un aumento dei costi nell'ordine di, abbiamo stimato, circa minimo 20.000 euro all'anno in più per ciascun camion che viaggia in Italia. Tutto questo sta determinando veramente il collasso delle imprese che sono sull'orlo del baratro. Alcuni scelgono di non movimentare più le merci, non per protesta ma proprio per l'insostenibilità dei costi determinati da questo caro Gasolio che non accenna a diminuire. Siamo consapevoli che le motivazioni non sono di carattere internazionale, quindi non è sicuramente la Regione quella che potrà risolvere i problemi. Però così come a livello nazionale la Confederazione e la CNA FITA nazionale stanno chiedendo al Governo degli interventi concreti e soprattutto rapidi per risolvere l'emergenza, così noi a livello regionale abbiamo chiesto che la Regione Abruzzo si faccia carico delle istanze, delle imprese del trasporto, sia attraverso una sorta di attività di solidarietà e di pressione nei confronti del Governo in conferenza Stato-Regioni affinché ci sia l'adozione di misure concrete a sostegno del settore, sia tramite un intervento diretto con la concessione di alcuni sussidi che ovviamente dovrebbero essere stimati nell'ordine almeno di una decina di milioni di euro, così come è stato fatto in passato per altre categorie produttive della Regione a causa della pandemia, così chiediamo che oggi venga fatto per il settore dell'autotrasporto che durante la pandemia ha garantito l'approvvigionamento di supermercati di generi di prima necessità a retto il Paese, senza chiedere aiuto allo Stato. Oggi il settore dell'autotrasporto ha bisogno di un aiuto almeno fin quando non sarà cessata questa terribile emergenza. Mentre l'export abruzzese verso la Russia vale solo l'1% del totale delle esportazioni. Le conseguenze economiche più gravi della guerra in Ucraina potrebbero riguardare l'aumento dei prezzi. Il rincaro non era così importante dal 1995. Vediamo. Quando aumenta il carovita non v'è dubbio da un lato vengono colpite le famiglie perché si riduce il potere d'acquisto e dall'altro lato si allarga la fascia della povertà. Sarà l'aumento dei prezzi il danno maggiore per l'economia abruzzese. Il conflitto in Ucraina che perdura da ormai oltre due settimane ha già innescato una guerra mondiale che non si combatte con le armi ma suon di sanzioni ed embarghi. Il prezzo del gas continua a lievitare mentre la Russia minaccia di chiudere il gasdotto Nord Stream 1. Così come sale il valore del grano di cui l'Ucraina è tra i maggiori produttori al mondo. L'ultima volta che vi fu un rincaro dei prezzi così importante era quasi 30 anni fa. L'aumento del prezzo del grano, l'aumento del prezzo dei cereali condurrà su beni specifici italiani e quindi anche sull'Abruzzo a problemi di raffreddamento della ripresa economica che l'Abruzzo stava registrando dopo la pandemia. Eravamo in una fase di crescita, stavamo assorbendo la forte caduta del 2020 e è chiaro che questa guerra interrompe questo percorso e si accompagna a un altro problema molto grosso che è l'aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi siamo di fronte a una pressione inflazionistica che attualmente è intorno al 6% che è la prima volta dopo il 1995. Quindi dopo 27 anni registriamo questa crescita dei prezzi dovuta al gas e ai cereali. Riguardo le esportazioni abruzzesi invece queste, secondo i dati Istat, sono cresciute del 5% negli ultimi tre mesi del 2021 registrando un rallentamento rispetto al resto dell'anno. Per la maggior parte l'export è diretto verso paesi europei, Germania in primis, mentre quello verso la Russia vale circa 88 milioni, appena l'1% di tutte le esportazioni abruzzesi. Gli scambi commerciali verso il paese di Putin infatti, come ci spiega l'economista Mauro, erano già stati ridotti a seguito della crisi in Crimea del 2014. Prima delle sanzioni della guerra di Crimea, relativa alla guerra di Crimea, l'Abruzzo aveva nei confronti della Russia un potenziale di esportazioni che superavano i 400 milioni. Oggi invece appunto siamo sugli 88, il che lascia prevedere che le nuove sanzioni ridurranno ulteriormente questo flusso di beni verso la Russia. Sono trascorsi 15 anni da quando furono scoperte le discariche di bussi sul Tirino. Proprio quest'anno sono iniziati i primi lavori di bonifica, ma la strada è ancora lunga. Sono già trascorsi 15 anni da quando il 12 marzo 2007 il comandante della forestale di Pescara, Guido Conti, scoprì che nell'area Tremonti di bussi sul Tirino erano seppellite tonnellate di rifiuti tossici. Da lì venne alla luce la più grande discarica d'Europa. 15 anni in cui gli scarti della produzione chimica, tra cui piombo, mercurio e cloruro di vinile, hanno continuato a inquinare le falde acquifere del Tirino, il terreno e anche l'area della zona. Lo ha certificato l'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, tramite diversi rilevi. In questi 15 anni, mentre lo studio Sentieri appurava nella Val Pescara un'incidenza di patologie riconducibili agli inquinanti superiore al resto della regione, è successo di tutto. I processi, la causa civile ancora in corso, l'iscarica barile sulle responsabilità, benché la Cassazione abbia determinato il ruolo di Edison nel disastro ambientale, e perfino un bando di bonifica, strenuamente difeso dal Ministero dell'Ambiente e poi annullato dallo stesso di Castero, il quale aveva anche temporaneamente e misteriosamente dirottato i fondi riservati al sito di interesse nazionale. E il rammarico è proprio questo, ci dicono dal Forum dell'Acqua, che il Ministero, che doveva promuovere la bonifica, ha in realtà rallentato l'iter dei lavori. Paradossalmente in 15 anni noi abbiamo fatto un po' di più di altri siti, molto poco in più, ma è veramente incredibile, perché per legge i progetti di bonifica devono essere approvati in 18 mesi, cioè esaminati e poi realizzati in qualche anno. Qui passano 15 anni e per esempio per l'area industriale non c'è neanche il progetto di bonifica, 15 anni rispetto a una previsione di legge di 18 mesi per fare i progetti. E questa è una responsabilità, a nostro avviso, del Ministero dell'Ambiente Prima, oggi della transizione ecologica, che è quasi uno stopper delle bonifiche e non invece il promotore, avendone la competenza per legge. A gennaio intanto sono finalmente partite le prime bonifiche, quella dell'area Tremonti, scoperta 15 anni fa, e dell'area industriale di Piano d'Orta. I lavori, come stabilito dai tribunali, saranno a carico di Edison in base al principio che inquina paga. Prossimamente dovrà partire la bonifica anche delle aree 2A e 2B. È presto però per vedere ricucita una delle ferite più profonde d'Abruzzo, che come detto sta ancora sanguinando. Il problema è che non vanno avanti le carte, e cioè i progetti, e senza i progetti non si bonifica. Quindi riteniamo che ci vorranno sicuramente molti anni, però se il Ministero della Transizione Ecologica va con questi tempi, ecco le bonifiche ce le avremo fra forse 40 anni, 50 anni. Da sabato di nuovo accessibile una porzione della pineta d'Annunziana di Pescara, che era stata devastata dall'incendio della scorsa estate. Aperti al pubblico il comparto 3 e parte del comparto 4. Vediamo. Credo che abbiamo fatto un bellissimo regalo a Gabriele D'Annunzio, riaprendo la pineta d'Annunziana, la fruizione dei cittadini pescaresi. E' nel 159esimo compleanno del vate pescarese Gabriele D'Annunzio che riapre parte della pineta d'Annunziana. Chiamata anche Parco d'Avalos, la riserva naturale era stata devastata da un incendio lo scorso primo agosto. Dopo sette mesi di lavori, finanziati col Festival D'Annunziano della Regione Abruzzo, comune e donazioni dei cittadini, da oggi sono nuovamente accessibili il comparto 3 e parte del comparto 4. Io voglio che Pescara diventi la città degli alberi e faremo in modo che questo avvenga con tante piantumazioni, con grande cura del verde. Oggi è una festa soprattutto per i bambini che frequentano questo parco. Per troppo tempo, più di sei mesi, non ne hanno potuto soffrire, ma da oggi in poi lo potranno fare sempre, con la massima attenzione, la massima cura del verde, perché questa pineta è un patrimonio non soltanto per Pescara, ma per tutto l'Abruzzo. Lunedì inizieranno i lavori nel comparto 5. Lì i tempi saranno più lunghi, ha dichiarato il sindaco, ma la pineta tornerà più verde di prima. Vogliamo che veramente anche dal male, cioè dall'incendio, possa venire il bene, quindi la rinascita è un'attenzione superiore rispetto al passato di questo spazio, ma di tutti gli spazi verdi. Adesso parliamo di sport, calcio. Ieri pomeriggio si sono giocate le gare della 31esima giornata di Serie C. Andiamo a vedere com'è andata per le due abruzzesi. Con una rete al 96esimo di Paolo Frascatore, il Pescara e Spugna per 2-1 in rimonta, il Bruno Nespoli di Olbia, grazie ad un finale di gara per Coriforti, e dopo una partita giocata sotto tono per 80 minuti, contava però vincere e la vittoria alla fine è arrivata per continuare a sperare ancora nel terzo posto. Auteri manda in campo la sua squadra con il consueto 4-2-3-1 tra gli assenti, Giambò e Drudi. Memuschai dopo un mese si rivede in panchina dove siedono anche Pompetti e Ferrari. I bianchi di casa rispondono con il 4-2-3-1 e con in avanti la temibile coppia, Udo Ragazzu. Nell'eventoso pomeriggio del Bruno Nespoli dirige Schira di Pordenone di fronte a 700 spettatori tra cui una cinquantina di impagabili tifosi abruzzesi giunti nell'isola. L'avvio di partita vede al quinto sugli sviluppi di un angolo battuto da Emerson il palo colpito dalla rosa di testa con i legni che salvano Sorrentino. Subito aggressivi bianchi di casa con Biancu che al decimo con un tiro dai 18 metri chiama la parata centrale. Il portiere bianca-azzurro fa molto possesso palla il Delfino che però rischia di nuovo al diciottesimo con un tiro di pochissimo al lato ancora di la rosa. Il vento crea problemi agli ospiti per l'occasione in maglia arancione. La squadra di Auteri prova a scuotersi ma l'Olbia chiude tutti gli spazi trovando al ventitresimo la rete con lo scatenato La Rosa che dalla distanza supera Sorrentino che è ingannato forse dal vento. Viene superato con la formazione isolana che trova così il meritato vantaggio. Male il Pescara ora anche sotto è costretto a rincorrere con il primo squillo si fa per dire alla mezz'ora con un colpo di testa alto di Cancellotti. Irriconoscibile la squadra di Gaetano Auteri che rumina calcio modesto sul prato del Bruno Nespoli con i locali che sfiorano al 35esimo ancora il 2-0 con un colpo di testa di Brignani che spedisce il pallone al lato quasi di un nulla. Al 45esimo proteste per l'errore di Ciocci il portiere dell'Olbia che perde palla al limite e può commettere fallo su Rauti con l'arbitro che va solo ad ammonire l'estremo difensore sardo fra le proteste ospiti. Si incarica della battuta della punizione dal limite Clemenza che va a sbattere però sulla barriera. Finale di primo tempo con il direttore di gara circondato dai giocatori abruzzesi. Nella ripresa al quarto Arboleda per l'Olbia in area abruzzese alza il pallone sopra la traversa. Al dodicesimo Teri getta nella mischia Ferrari d'Ursi enzita per Cernigoi Rauti e Veroli. Attacca la squadra abruzzese seppure in maniera disordinata ma di conclusione importa neanche l'ombra. Al ventiquattresimo punizione dal limite per l'Olbia con la conclusione di Emerson che fa finire il pallone di poco sopra la traversa della porta di Sorrentino. Passano i minuti con il Pescara all'affannosa ricerca del pareggio. Alla mezz'ora corner di Pontisso incornata al lato di Iglianes e questa dopo 75 minuti di gara l'occasione più pericolosa costruita dai biancazzurri. Al trentottesimo si rivede in campo anche dopo un mese e mezzo Memushai che entra al posto di Clemenza in un finale di partita incredibile che vede al quarantesimo la rete del pareggio di Ferrari che su cross di Pontisso di testa non lascia scampo a Ciocci. Quattordicesima rete stagionale per l'attaccante abruzzese che viene festeggiato dei compagni e con il Pescara che ora ci crede attaccando nel finale di partita con al 95esimo la caduta in area di Ferrari con il direttore di gara Friulano che prima indica il dischetto e poi assegna la punizione all'Olbia ma al 96esimo c'è l'apoteosi abruzzese con Paolo Frascatore che si inventa un col da campione segnando la rete della vittoria che fa esplodere la gioia degli impagabili tifosi abruzzesi giunti nell'isola Pescara batte Olbia 2-1 il terzo posto è ancora alla portata e martedì allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia ci sarà l'attesa sfida con il Cesena Un tesoretto gettato al vento in due gare tra Cesena e Montevarchi il Teramo sciupa quanto di buono aveva costruito in termini di vantaggio sulle inseguitrici salvezza e rimette tutto in gioco una sconfitta che brucia quella con l'Aquila Montevarchi per il sorpasso subito è perché la sconfitta è assolutamente meritata diavolo insufficiente mai davvero nel match e punito da una formazione che nel girone di andata ne aveva messo in luce tutti i limiti il primo quarto d'ora come al solito si rivela contrario ai colori bianco-rossi che pure ci avevano provato con la staffilata di Arrigoni dopo 120 secondi pallone alto e con la girata aerea di Bernardotto pescato da Aziosmanovic con un traversone da destra come a Gubbio però il piazzato di mercati come allora fu cittadino è letale perché trova la correzione di Giordani su cui Perucchini deve capitolare il Teramo colpito durissimo e che vacilla ancora quando Gambale si libera e calcia alto dal limite dell'area di rigore diavolo poco fluido e che deve attendere il quarantesimo quando Rosso sparacchia in qualche modo e sinistro da posizione defilata senza impensierire i giusti questioni farraginose che si ripropongono anche nel secondo tempo quando la velocità di Yalua crea le scompenzi già in avvio Perucchini salva in uscita mentre le tracce bianco-rosse sono quelle di Azzosmanovic a sinistro sull'esterno della rete e a rigore alto solo che quando trova spazi l'Aquila a Montevarchi è una lama è sempre un Perucchini super per disinnescare Gambale colpevole al momento della battuta comoda nemmeno i cambi Cisco e De Grazia per Mordini e Rosso oltre a Viero per uno spento Rossetti riescono a svegliare dal torpore un Teramo che di gamba non arriva dove la testa suggerirebbe l'occasione che capita a Bernardotto dopo un rimpallo fortuito è più una casualità che frutto di un'idea precisa di cosa fare e come farlo e infatti sono gli uomini di Malotti ad andare ancora vicini allo 0-2 con il siluro di Amatucci disinnescato da Perucchini Guidi inserisce anche Lombardo ai Malotti perché Viero si fa male per dare l'ultimo sussulto ai suoi che però non arriverà mai il Montevarchi si conferma bestia nera ma tra andate e ritorno molto quasi tutto lo ha fatto in negativo un Teramo lontanissimo da quello che occorre per centrare la salvezza con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito un buon proseguimento